Due azzurre in questa finale, Francesca Benolli e Carlotta Giovannini con la grandissima Oksana Ciusovitina che andrà a chiudere la gara. Qui intanto vediamo il gruppo, è sempre uno Iurcenco, uno Iurcenco con doppio abitamento. Uno e due, cade anche lei. Seconda caduta di questa finale, Maladoni non spaventava in maniera particolare, non era indicata tra le favorite. Vediamo qui la rincorsa, che cosa ha sbagliato, soprattutto magari nel momento della spinta dopo la posa delle mani? Normalmente quando c'è questo arrivo molto scarso è perché manca altezza e rotazione. Sicuramente se c'è un po' di altezza si compensa, ma maggiormente è importante velocizzare i piedi verso la tavola, come se si volesse arrivare in piedi, per così dire, dopo aver tolto le mani. Ma più rapidamente possibile aumenterebbe molto la velocità sull'asse trasversale, potrebbe avere più chance di arrivare in piedi. Ha compiuto da poco 16 anni e fa parte della squadra britannica in maniera stabile dai campionati del mondo di Stoccarda dello scorso anno. Un metro e cinquantasei per cinquantaquattro chilogrammi. Anche lei, come vedete, è una struttura molto potente. è nata a Nottingham, ma si allena a Mapperly, vedete la fase di riscaldamento. Punteggio molto basso per lei, 13.425, addirittura più basso della valutazione assegnata ad Anna Pavlova, che ha aperto proprio questa finale europea. secondo salto e questa volta il doppio carpio. Abbiamo visto... Sì, un salto carpiato molto buono. L'altezza c'è sicuramente preso dal mezzo giro dopo la rondata. Ecco, questo è molto rimontato, bellissimo come altezza. leggermente poi scarso l'arrivo col bacino. Sì, ecco, si vede da questa visuale. E qui c'è la penalità, perché ha messo il piede sulla fascia al di là del corridoio centrale giallo. Anche questo, appunto, è penalità. Ci sono lacrime per Ladoni, che evidentemente non è soddisfatta, ma ha ragione, non può esserlo. Dopo la caduta, adesso quest'altro brutto errore. Bene il batto del mezzo giro. Poi però, da questa altezza è veramente difficile arrivare con... Intanto chiedo scusa, Carmine, è uscito il punteggio. Allora, dopo il 13.425 ho ottenuto 13.5...